Seconda edizione del nostro telegiornale, buonasera e bentrovati. Si sono concluse le indagini dell'inchiesta Università Bandita su presunti concorsi truccati nell'Ateneo di Catania. 9 i professori rinviati a giudizio, 2 sono ex rettori. Sentiamo Mario Grasso. Si aprirà il prossimo 10 maggio davanti alla terza sezione penale del Tribunale di Catania il processo nei confronti di 9 professori dell'Università di Catania che oggi il Gup Marina Rizza ha rinviato a giudizio nell'ambito del procedimento Università Bandita nato da indagini della Digos della Questura Etnea. I reati contestati a vario titolo, abuso d'ufficio, falso e per due imputati l'ex rettore Basile e il professore Drago ha anche la corruzione per atti contrari ai propri doveri. Oltre a disporre il non luogo a procedere per il reato di associazione per delinquere il Gup ha derubricato in abuso d'ufficio la turbata libertà di scelta del contraente. Alla sbarra due ex rettori Giacomo Pignataro e Francesco Basile e poi sette professori Giuseppe Barone, Michele Maria Bernadetta Cavallaro, Filippo Drago, Giovanni Gallo, Carmelo Giovanni Monaco, Roberto Pennisi, Giuseppe Sessa. Il Gup ha assolto dall'associazione per delinquere e da due episodi di turbata libertà di scelta del contraente il professore Giancarlo Magnano di Sallio, che ha scelto il rito abbreviato e lo ha condannato ad un anno e due mesi, pena sospesa, per abuso d'ufficio. Per l'Università di Catania fu un vero e proprio terremoto al centro dell'inchiesta della procura etnea la nomina come docenti, ricercatori, dottorandi e personale amministrativo di soggetti preventivamente individuati dagli stessi associati con concorsi 27 in tutto, cuciti, si disse allora, su misura. Vennero inoltre evidenziate dalle indagini della Digos di Catania influenze nella costituzione degli organismi universitari. Questo di fatto è il primo troncone dell'inchiesta. In un secondo troncone la procura di Catania ha chiesto il rinvio a giudizio di altre 45 persone la cui posizione era stata stralciata dal fascicolo originale. Per questo secondo troncone è ancora attesa la decisione del Gup Simona Ragazzi. Veniamo adesso al Covid-19, i dati in Sicilia. Nell'isola i nuovi casi sono sotto i 500 giornalieri. Nelle ultime 24 ore 414 a fronte di 17.969 tamponi processati. L'incidenza cala al 2,3%, ieri era al 2,7%. L'isola scende così al terzo posto per nuovi contagi, dietro al Veneto con 509 casi e Lombardia con 450. Gli attuali positivi sono 19.233 con un decremento di 1.206 casi. I guariti sono 1.602 mentre purtroppo si registrano altre 18 vittime che portano il totale dei decessi a 6.741 sul fronte ospedaliero. Sono adesso 696 ricoverati, 40 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 92, due in più nelle singole province. La situazione è la seguente. In testa Catania con 113 casi, segue Siracusa con 90, Palermo con 77, Ragusa con 41, Agrigento 29, Trapani 26, Messina e Caltanissetta 11, chiude Enna con 16. Andiamo adesso alla cronaca pedopornografia online. 13 arresti in tutta Italia, inchiesta della Polizia Postale, indagini anche a Catania. Sfruttamento sessuale online di minori, operazione della Polizia Postale in tutta Italia con perquisizioni e pedinamenti da nord a sud, anche a Catania. 13 le persone arrestate, altre 21 sono state denunciate. Gli indagati dovranno rispondere di divulgazione, cessione e detenzione di materiale pedopornografico. Gli inquirenti hanno ricostruito i collegamenti tra diversi cittadini italiani e stranieri che detenevano e scambiavano su internet foto e video con atti sessuali tra adulti e minori, violenze sessuali subite da bambini e a volte anche immagini pedopornografiche di neonati. In totale sono stati sequestrati più di 250.000 file. L'inchiesta, durata un anno e mezzo, è stata condotta sotto la direzione della Procura di Palermo, dal compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Sicilia Occidentale con il coordinamento del Servizio Centrale presso il Centro Nazionale per il Contrasto della Pedofilia Online. L'indagine ha preso il via dall'attività di monitoraggio svolta da tutti i compartimenti italiani, tanto sui canali di file sharing quanto su piattaforme di chat e nel dark web, luoghi virtuali in cui gli investigatori si sono avvalsi di agenti infiltrati. Nell'ottobre del 2019 la Procura di Palermo ha autorizzato l'attività sotto copertura. Gli operatori, fingendosi utenti, hanno avuto così accesso a canali specifici di scambio di materiale illecito e considerati dagli indagati affidabili, grazie all'anonimato garantito dalla rete, sono riusciti ad individuare le utenze attraverso le quali avvenivano le connessioni, risalendo a persone residenti in 13 diverse regioni italiane. I risultati del lavoro sotto copertura, insieme alle indagini informatiche, ai sopralluoghi e ai pedinamenti, hanno portato l'autorità giudiziaria a disporre perquisizioni in tutta Italia. Nelle abitazioni degli indagati sono stati sequestrati dagli investigatori della Polizia Postale numerosi dispositivi informatici utilizzati anche per la conversione dei file. A 13 persone è stata trovata una grande quantità di materiale pedopornografico, per loro è stato disposto l'arresto. Altre 21 invece sono state denunciate. A finire sotto inchiesta persone di età e categorie diverse, tra queste anche un sottoufficiale della Guardia di Finanza in servizio a Cagliari. Ciò a testimonianza della diffusione trasversale del fenomeno, hanno spiegato gli investigatori. Sono ancora in corso accertamenti sulle immagini e sui frame del materiale sequestrato, nel tentativo di dare un nome alle piccole vittime di abusi per consentirne la messa in sicurezza. Un brigadiere della Guardia di Finanza è stato arrestato da agenti della squadra mobile di Palermo per violenza sessuale nei confronti di sette bambini. Tra i 9 e gli 11 anni gli abusi sarebbero avvenuti nel centro sportivo delle Fiamme Gialle in via Messina Marine, proprio nella struttura sportiva. È stato bloccato in fragranza di reato Gianfranco Cascone, 54 anni, in servizio come centralinista, dopo che gli investigatori avevano piazzato alcune telecamere nascoste. Il brigadiere era l'allenatore della squadra di calcio dei piccoli e proprio durante questa attività sarebbero avvenuti gli abusi. Due rapinatori seriali di Mascali sono stati arrestati dai carabinieri. Avrebbero razziato farmacie, supermercati, distributori di carburante e tabaccherie dal 13 giugno al 24 novembre dello scorso anno, sono finiti in manette due giovani pregiudicati di Mascali, di 26 e 19 anni arrestati dai carabinieri, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare messa dalla GIP del Tribunale di Catania, in ordine ai reati di rapina aggravata in concorso, furto aggravato in concorso, ricettazione. Il 26enne è stato fermato dai militari dell'arma a Fontana Rossa, mentre cercava di imbarcarsi per Roma nel tentativo, secondo gli inquirenti, di raggiungere la Germania. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della stazione di Mascali, del nucleo radiomobile della compagnia di Giare, del comando provinciale di Catania, che hanno analizzato e filmati dei sistemi di videosorveglianza nelle zone teatro delle rapine. I carabinieri hanno effettuato poi riscontri sui veicoli utilizzati e le targhe, oltre che gli indumenti indossati, alcuni dei quali sono stati sequestrati nel corso di una perquisizione eseguita dai carabinieri nelle abitazioni dei due indagati. I militari hanno ricostruito anche il colpo ad una tabaccheria con il susseguente incendio di una Fiat Panda rubata che era stata acquistata da un ricettatore. Il modus operandi era sempre lo stesso. I due arrivavano sul posto con dei mezzi ricettati o rubati, direttamente armati di coltello spranghe di ferro e con il volto travisato da passamontagna. Quindi il colpo facevano irruzione nell'obiettivo di turno, dove sotto la minaccia delle armi riuscivano ad impossessarsi del denaro contenuto nelle casse. Gli indagati sono stati rinchiusi in carcere. E ancora creazione di debiti fittizi per 105 milioni di euro per azione della Guardia di Finanza di Catania ai domiciliari due professionisti contabili. Avrebbero favorito la creazione di crediti fittizi per l'IVA per un valore di oltre 105 milioni di euro. Per questo motivo la Guardia di Finanza di Catania ha arrestato e posto ai domiciliari due professionisti esperti contabili. Si tratta di Guido Attilio Russo, 47 anni, catanese, ed Emanuele Ottaviani, 37 anni, di Guidonia, cittadina laziale. 47 le persone indagate per indebita compensazione. Si tratta di professionisti intermediari, imprenditori. E questo è il bilancio dell'operazione della Guardia di Finanza ad usufruire per 67 milioni di euro. Secondo le indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, coordinate dalla Procura, sarebbero state 14 società attive in varie parti d'Italia con interessi diversi, trasporti, pulizia, consulenza alle imprese. Si tratterebbe, secondo gli investigatori, di evasione delle imposte sul reddito attraverso il sistema dell'indebita compensazione di propri debiti tributari nei confronti dell'amministrazione finanziaria, con falsi crediti che sarebbero o relativi alla stessa tipologia di imposta, quindi maturati o maturandi in relazione a un diverso periodo. Secondo gli investigatori professionisti, le società acquistavano crediti vantati da altre aziende, che però erano derivanti da operazioni inesistenti o del tutto inesistenti, e questo permetteva, secondo l'accusa, di compensare il proprio debito nei confronti dell'amministrazione finanziaria. L'operazione che è stata denominata, visto tutto, è stata possibile mediante intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre che accertamenti bancari che hanno permesso di mettere in luce, secondo gli investigatori, un articolato sistema finalizzato a consentire alle società interessate l'evasione sul reddito con il pagamento di una somma inferiore al loro valore nominale, in modo da consentire all'acquirente di compensare in tutto o in parte il debito nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Il Bellini in Fest finisce in tribunale i giudici di Palermo su ricorso del Bellini Festival, una manifestazione fondata a Catania nel 2009 dal maestro Enrico Castiglione, ha infatti emesso un'ordinanza cautelare dichiarando illegittima la denominazione del festival promosso dalla regione siciliana. Nel caso di specie, scrive il giudice, le differenze tra il marchio utilizzato dalla regione e quello registrato da Castiglione e da questi utilizzato per oltre dieci anni sono minime, quasi impercettibili dal punto di vista fonetico. Per l'assessore regionale allo spettacolo Maglio Messina, che annuncia ricorso, la querella giudiziaria vedrà doverosa e speriamo rapida definizione nelle sedi opportune, ma nell'emore, nel rispetto della decisione del giudice, l'assessorato provvederà al ritiro del nome Bellini in Fest dal materiale divulgativo e promozionale dove è presente il logo, lasciando inalterato il ricco programma dell'evento in onore del Cigno. A partire annuncia l'assessore da domani sera, quando al Teatro Massimo Bellini andrà in scena Norma, che sarà trasmessa in diretta su Rai 5. Parliamo adesso del tempo, clima ancora incerto in Sicilia per qualche giorno, con piogge sparse e alto tasso d'umidità, prove generali d'autunno, anche se l'estate non è definitivamente finita. Nuvole e pioggia a singhiozzo, l'autunno prova di imporsi in Sicilia, ma attenzione, è una falsa partenza, assicurano gli esperti, che evidenziano come questa fase di incertezza climatica sarà ancora intervallata da belle calde giornate estive, come quelle in arrivo il prossimo weekend, quando le temperature torneranno a salire oltre i 30 gradi centigradi, garantendo un clima agostano da trascorrere al mare o comunque all'aria aperta. La depressione nordafricana che sta interessando il Mediterraneo occidentale si muove in senso anti-orario il vento proveniente dal mare, almeno fino a venerdì, manterrà alto il tasso di umidità che si aggira attorno al 75%. Oggi stiamo in qualche modo sperimentando un inizio di autunno presunto tale con questa nuvolosità dovuta a un richiamo di aria umida legata a una circolazione perturbata che si trova ad ovest della nostra regione. Nulla di che farà possibilmente qualche piavasco più tardi, forse qualche temporale nelle ore pomeridiane, insegnatamente sull'aria etnea e sulle aree interne. Poi in serata dovrebbe tendere a migliorare. Una situazione analoga dovrebbe aversi anche domani, parzialmente venerdì, però appunto sabato e domenica tornerà il buon tempo con un clima direi estivo. In ogni caso il tempo sta cambiando, nel complesso c'è una variazione che segna di fatto, seppur a sigliozzo, una partenza dell'autunno. Diciamo che è come se d'inverno fossimo a fine marzo, quindi diciamo l'analogia è quella. L'autunno sì, ci sta provando, anche se ancora non in maniera decisa. Forse la prossima settimana potremo iniziare a parlare di autunno, vero e proprio, con le conseguenze del caso, quindi con fenomeni di un certo rilievo, con possibili allerte, con anche la persistenza di quella che poi diventa una vera e propria fase autunnale. E direi che ci siamo, tant'è vero oggi, comunque siamo già alle equinozze d'autunno e quindi in qualche modo ce lo sta facendo ricordare. Ecco, lei parlava di persistenza, questa è stata un'estate calda e persistente. C'è qualcosa che lega quest'estate a quello che sarà appunto l'autunno? Allora, la persistenza dell'estate e delle temperature sopra media hanno determinato una situazione potenzialmente pericolosa, perché? Perché il mare, in particolare la superficie del mare, ha raggiunto valori elevatissimi e questo dà una sorta di energia potenziale che potrebbe scatenarsi sotto forma di eventi atmosferici abbastanza violenti. Abbiamo avuto già qualche segno al centro-nord con tornato, trompe d'aria. Quindi se poi dovesse verificarsi tutta una serie di circostanze favolevoli alla formazione di questi eventi e la temperatura del mare è uno di questi parametri favorevoli, allora dobbiamo stare attenti. Al momento non ci sono queste condizioni, dobbiamo vedere appunto cosa accadrà la prossima settimana. Patto per l'inclusione sociale della città di Catania a siglarlo nel pomeriggio 20 enti tra istituzioni, associazioni e organismi internazionali. Francesco Larosa Si tratta di un vero e proprio manifesto con obiettivi e azioni chiare per rimettere al centro il sistema di accoglienza e inclusione con impegno e responsabilità collettiva firmato a Catania Il patto di inclusione sociale con un progetto messo in campo dalla comune di Catania è condiviso da varie componenti. Il progetto è finanziato dal Ministero dell'Interno con i fondi del FAMI realizzato con il contributo del Consorzio Il Nodo, il Consorzio Solco, le cooperative sociali Prospettiva, Fenice, Maria Renella Garcia e l'Associazione Eris. Il fenomeno migratorio in città ha conosciuto un'accelerazione in questi ultimi 15 anni così importante e straordinaria che si è posta la necessità di coordinare e mettere a sistema tutte quelle che sono le buone prassi, le procedure che hanno adottato i vari enti, le varie istituzioni operanti nel territorio nella gestione del fenomeno migratorio e quindi a questa necessità risponde questo protocollo, questo patto per l'inclusione della città di Catania e che vede il Comune di Catania capofila. Noi abbiamo intercettato un importante finanziamento che è quello che va a valere sul Fondo FAMI 2014-2020, Capacity Building, e che in comprogettazione con gli enti maggiormente significativi del terzo settore ha realizzato un percorso progettuale articolato, molto complesso e che poi ha portato alla definizione di questo patto, di questo protocollo, che vede coinvolti tutti quegli enti, quelle istituzioni, quel privato sociale, quel volontariato che è coinvolto appunto nella governanza del fenomeno migratorio. Un lavoro sinergico che ha bisogno dell'apporto delle istituzioni? Sì, la sinergia tra istituzioni e terzo settore è fondamentale, soprattutto nel contesto in cui viviamo, dove le risorse finanziarie, quantomeno quelle locali, quelle comunali, sono ridotte allo stremo e allora sopravviene la creatività anche amministrativa e la creatività sinergica che ci porta a questi grandi risultati che comunque hanno un benessere diffuso per la comunità nella sua complessità, nella sua eterogeneità e in questo caso ovviamente ci riferiamo alla comunità dei migranti. Bisogna superare la frammentazione degli interventi fino a quando ciascuna delle tante realtà pubbliche e private che operano su Catania, anche brillantemente, però non si raccorda con gli altri, rischiamo di fare interventi frammentari che non risolvono il problema. L'immigrazione ormai è diventato un fatto strutturale, non è un'emergenza. Se vogliamo evitare i conflitti sociali, come diceva Riccardo De Faccia al convegno di oggi, dobbiamo fare vera integrazione. E vera integrazione la si può fare se tutti ci mettiamo insieme, pubblico e privato, pubblico e amministrazione, terzo settore, per fare veramente politiche di inclusione. Il patto che firmiamo stasera va in questa direzione. Perché è un fenomeno che ormai fa parte della nostra vita quotidiana? Infatti, è un fatto, come dicevo, strutturale. Non si può fermare l'immigrazione con provvedimenti legislativi, chiudendo i porti o bloccando gli arrivi. Gli uomini si migrano da sempre. Noi riceviamo di questo fenomeno soltanto alcuni effetti e neanche i principali. Perché i grandi movimenti, anche per le crisi climatiche che attraversano il pianeta, si fanno altrove. Riqualificazione del parco di Pisano, frazione terremotata di Zafferane etnea, la struttura commissariale per la ricostruzione ha stanziato 212 mila euro. A breve il via ai lavori anche per il ripristino della chiesa di San Giuseppe. Salvo Futuri. È stato approvato e finanziato dalla struttura commissariale post-sisma con un fondo di 212 mila euro il progetto di ripristino e fruizione del parco comunale di Pisano nel territorio di Zafferane etnea, rimasto danneggiato dal terremoto del 26 dicembre del 2018. Le somme sono già state accreditate al Comune. La procedura di appalto per l'affidamento dei lavori è quasi ultimata, pertanto le opere dovrebbero avere inizio tra qualche settimana. La superficie boschiva in cui è presente un'area avventura con tanto di strutture in legno sospese, funi volanti, un punto di riferimento per i tanti appassionati del genere, è stata chiusa ed interdetta a pubblico a seguito del terremoto che ne ha compromesso il pieno utilizzo. Pisano è una delle frazioni di Zafferane etnea interessate dal sisma che la notte di Santo Stefano del 2018 ha devastato nove territori a nord dell'area metropolitana di Catania, causando danni per milioni di euro a strutture pubbliche e private. Nella borgata terremotata di Pisano a breve dovrebbero prendere via anche i lavori di sistemazione della chiesa intitolata San Giuseppe che ha ottenuto un finanziamento da parte della protezione civile regionale di un milione e 700 mila euro per il ripristino dell'abside parte delle pareti interne e la torre campanaria ingabbiata dalla base con tubi di ferro per timore di crolli. In corso la stessura di nuovi progetti per il recupero del pozzo cavotta, della rete idrica e dei locali cimiteriali. Il sindaco di Zafferane etnea Salvorusso ai nostri microfoni fa il punto della situazione sulla ricostruzione a tre anni dal sisma. Continua l'opera di ricostruzione degli edifici pubblici all'interno del territorio di Zafferane che sono stati gravemente colpiti dal sisma del 26 dicembre del 2018. L'ultimo è il finanziamento ottenuto del parco di Pisano dove prima del sisma c'era uno dei parchi avventura più conosciuti della Sicilia orientale. Speriamo di avviare presto i lavori di ricostruzione per restituire alla nostra comunità e soprattutto alla frazione di Pisano uno dei luoghi simboli e più utilizzati dai turisti e visitatori che vengono qui a Zafferane. Qual è il punto sulla ricostruzione? Parliamo dei privati e non solo del pubblico. Allora diciamo che la macchina della ricostruzione va avanti con la nostra struttura qui all'interno del comune, all'ufficio sisma del comune grazie sempre a un finanziamento ottenuto dalla struttura commissariale abbiamo adibito la Palazzina Liberty, il secondo piano della Palazzina Liberty ad ufficio sisma, ci sono 15 tecnici che sono stati quelli assunti attraverso il finanziamento della struttura commissariale ai quali è demandata l'opera della ricostruzione sia degli edifici privati sia degli edifici pubblici. Le domande sono a buon punto perché mi pare che questo territorio abbia subito danni ingentissimi. Le domande sui 25 mila euro sono a buon punto, sono in fase di ultimazione ovviamente sono in itinere tutte le domande che sono state presentate successivamente all'emissione delle ordinanze del commissario Scalia l'ordinanza 14, una delle più importanti c'è una fase di istruttori che viene fatta all'interno del comune di Zafferana e poi la documentazione viene trasferita alla struttura commissariale si sta andando avanti tra tante difficoltà ma la macchina comincia ad ingranare Un milione di euro invece è stato stanziato dalla città metropolitana di Catania per la ristrutturazione dell'istituto nautico Luigi Rizzo di Riposto una scuola che accoglie studenti da tutta la Sicilia orientale La firma del sindaco della città metropolitana Salvo Pogliese al decreto di finanziamento c'è i fondi per la ristrutturazione dell'istituto nautico Luigi Rizzo di Riposto sono realtà il recupero del plesso di via Duca del mare è certezza interventi mirati non solo riguardanti la facciata esterna ma anche in tutte quelle porzioni ammalorate nel tempo dagli agenti atmosferici la struttura tra le più antiche ospita oltre 500 studenti provenienti da tutta la Sicilia orientale il nautico scuola di formazione di eccellenza seconda nella graduatoria nazionale per importanza e prestigio la soddisfazione del sindaco della città marinara Enzo Caragliano Sì, importantissimo, quindi ho sentito un ringraziamento all'amico onorevole Salvo Pogliese nella duplice qualità non solo di parlamentare, di sindaco di Catania ma soprattutto come presidente della città metropolitana e quindi della provincia grazie a lui quello che lui ha detto circa un anno e mezzo fa è stato mantenuto ci ha firmato il decreto di un milione di euro per far ritornare all'ustre e splendore il nostro nautico che è il secondo d'Italia e non a caso siamo nei 200 anni dell'apertura di questo grandissimo istituto che tanto ha dato al territorio e tanto darà grazie a tutti coloro che si sono spesi in questi anni che portavano avanti il nostro istituto che ha avuto sempre una larga recepzione, una larga affermazione in tutto quello che è comprensore per gli studenti perché noi quantiamo studenti che abbracciano quasi tutta la Sicilia orientale se non faccia il suo primo bacino ma soprattutto per la sua valenza storica non poteva essere così trascurato io ricordo gli antichi splendori in cui il nautico non solo era sede di grande conferenze promotore di grandi iniziative è stato uno dei primi a corredarsi di quella che era la sala Rata e poi abbiamo anche i sistemi di navigazione e spero che ne farà uso l'attuale dirigente e anche i futuri dirigenti faranno un piccolo museo perché abbiamo molte cose dell'attività marinaresca dell'istituto nautico che ci possono ricordare i trascorsi lustri e i grandi trionfi una grande vista, un benvenuto ai turisti che si attraccono nel nostro bacino non solo quello turistico ma anche il primo bacino il porto grande ma soprattutto una visione sempre di crescita del territorio e della città di Riposto Lei parlava di grande ricettività questo naturalmente non potrà che essere un ulteriore slancio per il plesso Certo, un ulteriore slancio per il plesso ma soprattutto è come quando uno inizia e si dà una nuova veste significa che è pronto ad affrontare la grande sfida e la grande conquista e del resto l'istituto nautico è fatto per i grandi navigatori che vanno per mare Il futuro della chirurgia oltre la pandemia questo è il tema del congresso nazionale dei medici chirurghi che si terrà dal 26 al 29 settembre nel centro fieristico leciminiere di Catania un migliaio di partecipanti Il futuro della chirurgia oltre la pandemia che ha attanagliato l'intera comunità mondiale dal 26 al 29 settembre prossimo nel centro fieristico leciminiere di Catania si terrà il 123esimo congresso nazionale organizzato dalla Società Italiana di Chirurgia con tematiche che riguarderanno anche la tecnologia avanzata la formazione e umanità Saranno oltre mille i chirurghi che hanno garantito la loro partecipazione con il congresso che si terrà in presenza dopo il lungo periodo di lockdown Il simposio è successivo ad un periodo in cui la medicina è stata messa a dura prova dal Covid-19 e anche per questo si tratterà di una preziosa occasione di incontro e confronto Il periodo dell'epidemia certamente ha bloccato un po' gli interventi chirurgici che tranne quelli oncologici e urgenti abbiamo dovuto rimandare infatti sono aumentate le liste d'attesa in maniera impressionante Il congresso che noi faremo in questi giorni da comincia domenica a Catania il congresso della Società Italiana di Chirurgia quindi la più grossa società di chirurghi nazionale e tra le varie cose oltre che di temi tecnici parleremo anche di come agire nei confronti dei pazienti che sono rimasti non trattati per problemi legati al Covid-19 C'è da valutare come recuperare sulle liste d'attesa che sono, come vi dicevo, molto allungate ma già lo stiamo facendo, devo dire perché la Regione ci ha consentito di fare dei progetti cosiddetti di incentivazione per lavorare fuori orario in più e poter recuperare le liste d'attesa però ancora si deve lavorare su questo Parliamo di recupero di liste d'attesa che non è un aspetto formale o burocratico che dir si voglia è veramente un problema per tutti quei pazienti che da un anno e mezzo a questa parte non hanno avuto accesso alle cure a causa del Covid-19 e quindi voi capite bene al di là di questa manifestazione quanto sia sentito per noi professionisti della salute questo argomento Dobbiamo ritornare a poter dare assistenza a chi ne ha bisogno e sono in tanti Attraverso questo congresso speriamo, ma siamo certi di dimostrare che anche tutti insieme e dal vivo si può assolutamente gestire un evento anche di questa portata in assoluta sicurezza Il convegno sarà articolato su vari simposi e tavole rotonde che si svolgeranno nelle otto sale appositamente predisposte con la garanzia del dovuto distanziamento consentito anche dagli ampi locali delle ciminiere dove si terrà il congresso Un evento di eccezionale valenza dal punto di vista scientifico che con grande orgoglio ospitiamo nella nostra città che determinerà non soltanto l'approfondimento di alcune tematiche di scottante attualità nel campo medico e scientifico ma determinerà anche ricadute economiche di eccezionale valenza per il nostro territorio grazie anche ad un percorso virtuoso che abbiamo intrapreso unico comune in Italia sul turismo congressuale che ci ha permesso di vincere la sfida competitiva con altre città italiane e siamo felici che questo congresso con 900 pernottamenti al giorno per 5 giorni determinerà ricadute superiore a 3 milioni di euro non ci sono altre notizie termina qui questa edizione del telegiornale che potrete seguire su internet sul nostro sito all'indirizzo reitv.it ma anche sul nostro canale youtube sulla nostra pagina facebook nuovo appuntamento in diretta con le informazioni invece domani alle 14 grazie per averci seguito e a tutti voi buona serata e buon proseguimento le previsioni meteo per la giornata di domani 23 settembre in Sicilia uno giovedì all'insegna della variabilità al mattino nel pomeriggio a sera con sprazzi di sereno, nubi e qualche pioggia soprattutto ad oriente i venti saranno deboli da est i mari quasi calmi il tirreno e il canale di Sicilia mosso o poco mosso lo ionio le temperature più basse ma non fredde e comunque all'interno dei valori stagionali rilevante l'escursione termica soprattutto nelle aree centrali dell'isola grazie a tutti grazie a tutti